Mega o maxi variante? Chiamatela come volete, ma sappiate che il succo non cambia. Si tratta di una manovra urbanistica che cambierà il volto a San Benedetto. Volete i dettagli? Eccoli direttamente dal primo cittadino, Giovanni Gaspari. Vogliamo trovare l'area per la fondazione? Vogliamo realizzare un nuovo impianto natatorio in questa città? La piscina che è stata aperta 35 anni fa in questa città, oggi vede 600 persone che quotidianamente varcano il cancello della piscina per andare a fare la pratica sportiva. Vogliamo realizzare quindi questo nuovo impianto natatorio che è caso di dire fa acqua a tutte le parti dopo 35 anni. Vogliamo spostare la sottostazione di via Bianchi che fino a ieri era il problema dei problemi in questa città, l'inquinamento elettromagnetico. In più vogliamo togliere definitivamente una volta per tutte agli appetiti speculativi di questa città il cuore, la cerniera tra Porto d'Ascolo e San Metto, tutta quella che è la cosiddetta area Branca d'Oro. Il quadro è chiaro ma mancherebbe la tempistica e invece proprio oggi la Giunta ha dettato le linee guida per la stesura del bando, necessario a reperire il privato che abbia voglia di portare avanti questo progetto con l'amministrazione. Oggi la Giunta approverà le linee di indirizzo che saranno date al dirigente e il dirigente con queste linee di indirizzo adotterà, perché questa sarà una determina dirigenziale, adotterà questo bando che verrà pubblicato. Ora il bando resterà fisso per un tot di tempo, quindi si passerà alla condivisione del progetto con la comunità e infine la mega o maxi variante passerà al vaglio del Consiglio. Grazie. 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 Grazie.